Dottore, l'altro giorno avevo un po' di bruciore gastrico, allora mi son detta, vabbè, ma sai che c'è? Prendo un gastroprotettore, avrò fatto bene? Chissà se la signora Lucia avrà fatto bene o avrà fatto male, del resto scagli la prima capsula chi è senza peccato. I gastroprotettori sono una delle classi farmacologiche più utilizzate, ma direi anche abusate. Infatti spesso vengono presi senza una reale necessità medica e questo crea non pochi problemi. Allora per chi mi segue sa che questo video fa parte del filone guide complete in cui prendo un certo tema e lo vado a sviscerare. Quindi alla fine di questo video avrete tutte le conoscenze necessarie per gestire al meglio una terapia con inibitori di pompa protonica o anche i detti gastroprotettori. Quindi vedremo quando prenderli e soprattutto quando non prenderli, capiremo anche come funzionano e quindi ci addentreremo nei meccanismi e nelle meraviglie del corpo umano, ma vedremo anche quali accortezze utilizzare per prenderli, quindi anche dei trucchi, dei piccoli trucchi legati all'assunzione, e poi vedremo quali sono gli effetti collaterali che molto spesso si pensa non ci siano eppure ce ne sono molti e diversi dei quali anche molto rilevanti per la nostra salute. Infine vedremo anche quali sono i monitoraggi da fare durante l'assunzione di gastroprotettori. Per chi avrà la tenacia di resistere fino alla fine troverà anche una tabella riassuntiva in cui vado a elencare quelli che sono i dosaggi consigliati per i diversi gastroprotettori. Allora cominciamo subito, ma prima due note di rito molto importanti a cui tengo molto. La prima è se vi piace questo modo di fare divulgazione potete sostenermi iscrivendovi al canale. Questo è il modo più semplice e allo stesso tempo meravigliosamente potente per sostenere il mio lavoro. Il secondo è per chi ha piacere di mettersi in contatto con me mi può seguire su Instagram dove io regolarmente apro dei box domande e quindi li possiamo rimanere in contatto. E allora non perdiamo altro tempo e tuffiamoci nella piscina acida all'interno del nostro stomaco. Dobbiamo dire, dobbiamo ammettere che esiste questa leggenda tramandata da anni per cui quando uno ha un po' di bruciore gastrico, tac, ecco che deve prendere il gastroprotettore. Ma le cose non stanno proprio così e purtroppo questo modo di fare ci spalanca le porte a dei potenziali rischi che vedremo tra un pochettino. Quindi cerchiamo di fare chiarezza e cerchiamo di capire chi deve prendere il gastroprotettore e chi non lo dovrebbe assolutamente prendere. Ora vi chiedo, secondo voi, se io ho un bruciore gastrico da un paio di giorni, che magari mi dà anche parecchio fastidio, il gastroprotettore è il farmaco corretto? La risposta è no, non è il farmaco corretto. So che alcuni di voi potrebbero storcere il naso e dire, sì ma il gastroprotettore serve proprio per togliere l'acido, io ho l'acido, che faccio, non lo prendo? E no, perché esistono altre tipologie di farmaci, per esempio gli antiacidi, che sono un po' diversi dai gastroprotettori. Quindi concentrandoci su quando prendere un gastroprotettore, dovremmo dire quando abbiamo un'ulcera gastrica. Ora, l'ulcera gastrica è un fenomeno oggigiorno relativamente raro, direi, però è sicuramente un momento che richiede delle accortezze, soprattutto dei gastroprotettori, ma non solo. Il reflusso gastroesofageo è una problematica di cui soffre un infinito numero di persone ed è sicuramente un'indicazione per la terapia con gastroprotettori. Poi vedremo anche dei dettagli, perché prendere un gastroprotettore non vuol dire prenderlo per tutta la vita, non vuol dire prenderlo sempre alla stessa dose, ci sono molti aspetti, anche spesso controversi, su cui conviene soffermarsi. Poi ci sono anche delle persone che hanno un'infezione nello stomaco, che in realtà è molto più frequente di quanto si creda, l'infezione da Helicobacter pylori. Ecco che per eradicare questo subdola bestiaccia bisogna fare una terapia antibiotica, ma abbinare anche dei gastroprotettori. Ci sono poi delle situazioni in cui magari si prendono degli antinfiammatori per un lungo periodo di tempo, per diversi tipi di necessità, o magari ci sono dei fattori di rischio di sanguinamento gastrico. Ecco che quindi in questi casi può essere utile assumere dei gastroprotettori. Ma, e qui vi voglio intrigare anche, ci sono molte situazioni per cui io riscontro in ambulatorio che le persone prendono a manciate i gastroprotettori, come se fossero cioccolatini e caramelle. I gastroprotettori non sono giugiole, vanno prese con grande attenzione. Quindi se io ho un po' di bruciore gastrico, l'abbiamo visto per uno o due giorni, non prenderò il gastroprotettore. Se ho un po' di nausea, un po' di crampi addominali, se ho alitosi, se ho meteorismo intestinale, il gastroprotettore non è il farmaco da prendere. E adesso voglio vedere quanti cadranno in questa domanda. Secondo voi, se devo fare una terapia con cortisone o con un suo derivato, il desametasone, il prednisone, eccetera, eccetera, dovrò prendere anche il gastroprotettore se prendo il cortisone? So che in molti saranno tentati di rispondere. E certo, se prendi il cortisone è chiaro che devi prendere il gastroprotettore, ma la risposta in realtà è no. In caso di terapia steroidea non va preso il gastroprotettore, a meno che non ci siano dei veri e propri fattori di rischio a livello gastrico, quindi magari una tendenza a formare ulcere, terapie anticoagulanti, farmaci antinfiammatori. Ecco, se ci sono dei fattori di rischio è chiaro che va preso, ma in assenza di fattori di rischio questa combinazione non è indicata. So che vi sembrerà strano perché ormai siamo stati bombardati per così tanto tempo che il cortisone può danneggiare lo stomaco, ma in realtà ormai tutte le linee guida non solo nazionali ma mondiali sottolinano la necessità di non cadere in questo tranello. E allora adesso vorrei vedere insieme a voi come funziona un gastroprotettore, perché è un meccanismo d'azione che definire geniale è poco, ma prima di questo dobbiamo tuffarci a bomba in quello che è il lago acido del nostro stomaco e capire i meccanismi e la fisiologia che è straordinaria che si cela all'interno del nostro stomaco. Immaginate di avere davanti a voi un bel paninazzo con la mortadella, che è lì che vi guarda e vi dice vieni, mangiami, mangiami. Ecco, il nostro organismo, il nostro corpo si è evoluto per pronteggiare, diciamo così, questa meravigliosa sfida. E un paninazzo con la mortazza in realtà presenta diversi elementi che possono un po' stimolare il nostro corpo. Infatti al suo interno troveremo grassi, carboidrati, proteine, insomma un'infinità di nutrienti, ma troveremo probabilmente anche delle insidiose bestiacee. Allora, lo stomaco ha essenzialmente due funzioni principali. La prima è quella di sterilizzare, far esplodere, potremmo dire, tutti i microorganismi che troviamo sugli alimenti. La seconda è quella di cominciare, insieme alla bocca anche e alla saliva, la digestione. Soprattutto lo stomaco è utile per andare a spaccare le proteine, che poi sono quelle che ci daranno gli amminoacidi, mattoncini essenziali per la nostra vita, e anche la funzione di andare a disgregare i diversi macro composti, macro aggregati, che si trovano al suo interno. Quindi sarà molto utile, per esempio, per andare a facilitare l'assorbimento di alcuni sali minerali. Ma ne parleremo, ne parleremo. Lo stomaco possiamo immaginarlo come un boiler, lo so, però è un boiler fondamentalmente, al cui interno ogni giorno produciamo un litro e mezzo di materiale acidissimo, a pH diciamo tra l'1 e il 3. È una cosa micidiale, se mettessimo una mano dentro non staremo bene. E quindi già qui capiamo la meraviglia, cioè lo stomaco è un luogo assolutamente inospitale per la vita, che allo stesso tempo è essenziale per la nostra vita. Ma allo stesso tempo deve proteggersi da se stesso. E sì, perché con un pH così basso, con un livello di acido, di acido cloridrico così elevato, ecco che deve allo stesso tempo proteggersi e quindi sarà coinvolto nella produzione di buco, di bicarbonato, in modo da non ferirsi, da non danneggiarsi da solo. Ma tornando all'esempio del paninazzo con la mortazza, vi sembrerà incredibile, ma la digestione comincia ancora prima di introdurre questo paninazzo all'interno della nostra bocca. E sì, perché già il cervello, quando i nostri occhi cominciano a guardare con brama questo panino, ecco che comincia a mandare degli impulsi al nostro stomaco. E gli dice, oh guarda che qui tra un po' arriva una lussuria all'interno del tuo stomaco, quindi comincia a secernere acido, preparati, perché tra un po' ne vedremo delle belle. Ecco, quindi già lo stomaco comincia un po' a prepararsi e poi quando il cibo entrerà effettivamente nello stomaco, anche lì succederanno cose meravigliose. Perché soprattutto le proteine andranno ad agire su delle piccole cellule chiamate cellule G che produrranno un ormone chiamato gastrina. Questa gastrina entrerà in circolo, arriverà a livello di altre cellule sempre nello stomaco, che sono le cellule chiamate enterocromafin-like, un nome un po' complicato, ma insomma sono delle cellule che non sono quelle che producono l'acido. Sono un po' come i bodyguard dei VIP, che sono invece le cellule che producono acido, e le cellule di enterocromafin-like producono invece istamina, che è questa sostanza che molti di voi diranno, a me non mi piace mica tanto l'istamina perché è coinvolta nell'allergia, ecco che però in questo caso è coinvolta nella produzione di acido. E quindi queste cellule di enterocromafin-like stimolate dalla gastrina producono istamina che a sua volta va ad agire sulle cellule parietali, che sono le regine all'interno dello stomaco e sono quelle che secernano veramente l'acido. Quindi loro si vedono da un lato attivate dal cervello che manda giù delle propaggini nervose e dice oh guarda che sta per arrivare il paninazzo con la mortazza, non ti vorrai far cogliere impreparato. E dall'altro canto invece dall'istamina che le invade, quest'onda di istamina che le stimola a secernere l'acido. E allora loro che fanno? Dicono vabbè mi avete tirato in causa e adesso vi sistemo io. Comincio a produrre una vagonata di acido e così fanno. Ma la cosa meravigliosa che molti si domandano è sì ma com'è che il nostro corpo produce acido? Cioè non è che dentro abbiamo una boccetta di acido. No, facciamo una cosa molto più raffinata. Sulle cellule parietali sono presenti dei canalicoli che potremmo immaginarci come dei piccoli tunnel, delle zone molto irregolari che hanno la funzione di aumentare la superficie di secrezione di acido. Ma questa secrezione ha un meccanismo raffinatissimo alla sua base. E cioè è originata e permessa attraverso delle pompe. Ebbene sì, le pompe essenzialmente sono delle strutture proteiche che hanno una funzione molto banale ma anche molto complicata che è quella di da un lato assorbire una sostanza e dall'altro di buttarla fuori. Quindi loro cosa fanno? Dallo stomaco assorbono potassio e invece pompano fuori, buttano fuori all'interno dello stomaco protoni, idrogeno fondamentalmente. Quando c'è tanto idrogeno cosa succede? Il pH si abbassa. Ecco che si forma dell'acido. Questo è un meccanismo meraviglioso che il nostro corpo ha sviluppato per cambiare il pH quindi la presenza di acido all'interno di due compartimenti cioè noi siamo in grado di avere compartimenti acidissimi e compartimenti invece assolutamente non acidi. All'interno del nostro corpo c'è questa enorme differenza tra vari compartimenti, tra vari organi. Questa è una cosa straordinaria su cui non ci pensiamo mai eppure l'acido ci serve lì non ci serve altrove. Ecco che allora comprendere questi meccanismi ci permette di capire davvero come fanno i gastroprotettori a bloccare la secrezione acida. Magari avete già un'idea e adesso lo vedremo. Immaginate la signora Lucia che ha davanti a lei il blister con i gastroprotettori rompe un blister ne prende uno lo deglutisce cosa potrà mai succedere? Beh, molti penseranno ok, va all'interno dello stomaco e lì, tac, ecco che agisce. Eh, non è proprio così semplice. Le cose sembrano semplici ma in realtà sono sempre più complesse. Quello che succede quando noi assumiamo un gastroprotettore è che lo assorbiamo. Quindi il gastroprotettore viene assorbito ed entra nel nostro sangue. attraverso il sangue andrà a localizzarsi soprattutto a livello dello stomaco. In realtà per chi è veramente molto appassionato di scienza bisogna aprire una piccola parentesi lo diciamo sottovoce rapidamente ma sembra che i gastroprotettori possano agire anche su altre cellule dell'organismo. Ma qui non voglio dilungarmi e questo è un tema di ricerca di frontiera. Quello che invece voglio discutere insieme a voi oggi è che dopo essere stati assorbiti ecco che tac arrivano a livello dello stomaco e lì entrano nelle cellule parietali che sono le regine dello stomaco quelle che dicono fate largo sono io che produco l'acido qui sono io il VIP ecco vanno proprio al loro interno. Nel loro interno i inibitori di pompa protonica gastroprotettori PPI li possiamo chiamare come vogliamo in realtà non sono attivi. Questa è anche una particolarità. questi farmaci sono detti dei profarmaci cioè devono essere attivati e come fanno? Beh quando arrivano a livello dei canaliculi l'acido li attiva ed ecco che tac vanno a legarsi in modo praticamente indissolubile alle pompe che abbiamo visto prima. Questi scambiatori di potassio-idrogeno potassio-protoni loro si legano su queste pompe e le vanno a cambiano la loro forma e le bloccano e le paralizzano. In questo modo le regine le cellule parietali sono lì che cercano di sacernere acido ma non ci riescono più perché le pompe sono bloccate hanno smesso di funzionare. Aver capito questi meccanismi ci sarà utilissimo per capire quindi i segreti di come assumere questi farmaci e poi anche perché è sempre bello conoscere come funzioniamo noi quindi cosa succede quando mangiamo assumiamo un farmaco quali sono i meccanismi che mettiamo in moto all'interno del nostro corpo e poi possiamo sorprendere tutti durante il pranzo di Natale e dire occhio che se prendi il gastroprotettore devi seguire questi consigli. Ecco allora addentriamoci in dei suggerimenti pratici in modo da capire come regolarci. dunque abbiamo visto che per l'azione dei gastroprotettori ci servono due elementi fondamentali il primo è la presenza delle pompe potassio-idrogeni la seconda è la presenza di acido perché nel primo caso per quanto riguarda le pompe queste sono il bersaglio dei farmaci per quanto riguarda l'acido questo è importante per attivare i farmaci. Allora tenendo a mente queste informazioni creiamo una struttura pratica per assumerli in modo corretto e cioè durante un digiuno prolungato quello che succede è che aumenta il livello delle pompe quindi se noi digiuniamo di notte ecco che la mattina avremmo un elevato livello di queste proteine. In secondo luogo quando noi mangiamo produciamo acido quindi mettendo insieme queste informazioni ecco che il gastroprotettore dovrebbe essere preso nel momento della colazione è circa un 30-60 minuti prima ecco perché però perché quando noi lo assumiamo non è che il gastroprotettore è subito disponibile è necessario un minimo di tempo affinché entri nel sangue e raggiunga la sua concentrazione massima questo ci impiega circa un 30-60 minuti quindi se noi lo prendiamo prima di colazione cioè quando il livello delle pompe è massimale e lo assumiamo un'ora prima nel momento in cui cominceremo a mangiare e produrremo acido ecco che il gastroprotettore sarà presente nelle sue massime quantità e quindi sarà pronto per andare a legarsi alle pompe protoniche andando a inibire un grande un grande numero questo è il modo migliore e più efficace di assumere il gastroprotettore uno potrebbe dire sì però dottore io in realtà mangio la notte in realtà digiuno di giorno vabbè allora ovviamente il discorso sarà traslato dopo il digiuno ovviamente però diciamo che di norma si dorme teoricamente la notte anche se effettivamente ci sono alcune professioni notturne e quindi diciamo la maggior parte delle persone di notte dorme e quindi dovrebbe prenderlo la mattina un altro elemento importantissimo su cui vedo un sacco di persone cadere è il numero di assunzioni allora il gastroprotettore non è un farmaco che si prende così una volta ogni tanto perché funziona poco perché ci può dare più problemi che non benefici e quindi va preso in modo sistematico poi vedremo perché anche qui ci sono alcune considerazioni molto importanti che spesso non vengono applicate quindi considerate che se noi lo assumiamo una sola volta andiamo a bloccare una quota piccola di queste pompe protoniche chiamiamole così per semplicità e quindi andremo a inibire poco la produzione di acido non avremo un grosso beneficio se invece noi lo assumiamo per 5 giorni di fila ecco che avremo inibito quasi il 70% di queste pompe e quindi già dopo 5 giorni possiamo dire che il gastroprotettore comincia a esercitare la sua efficacia una precisazione importante ovviamente il nostro corpo che si vede arrivare questo farmaco non è che sta lì fermo inervi mi ha bloccato le pompe vabbè è andata così no fa una cosa molto diversa cioè comincia a produrre pompe nuove ovviamente quelle vecchie le tira via le butta via e le ricicla perché il corpo ricicla tutto e ne produce di nuove quindi se noi smettiamo naturalmente di prendere il gastroprotettore succederà che le nuove pompe non saranno più inibite e quelle continueranno e produrranno acido quindi questa è la ragione per cui va preso regolarmente ci sono però altre considerazioni importantissime da fare cioè i gastroprotettori hanno e tra poco lo vedremo abbiate un attimo di pazienza hanno degli effetti collaterali assolutamente non trascurabili non trascurabili quindi questo vuol dire iniziare il farmaco quando c'è bisogno l'abbiamo visto prima in chi lo dovrebbe prendere prenderlo per la dose giusta e poi cercare di ridurre questa dose nel tempo quindi l'idea di prendere il gastroprotettore sempre alla stessa dose per tutta la vita diciamo che non ci piace ovviamente ci sono molte eccezioni quindi affidatevi sempre al vostro medico che sicuramente vi curerà al meglio però ci sono dei casi in cui giustamente non si può togliere il gastroprotettore perché ci sono delle problematiche rilevanti magari all'interno dello stomaco ma nella maggior parte dei casi si può sempre fare un tentativo di ridurre la dose fin anche smettere e qui arriva un punto cruciale su cui peraltro diciamo che c'è anche una certa controversa scientifica cioè il gastroprotettore può essere interrotto così a secco oppure bisogna fare una riduzione graduale ecco alcuni autori ed effettivamente anch'io l'ho riscontrato nella pratica clinica che può essere di beneficio tendono a consigliare di scalare gradualmente il dosaggio del gastroprotettore perché? perché si è visto e si ipotizza che ci possa essere un fenomeno chiamato rebound il corpo umano dà spesso di questo tipo di fenomeni e cioè quando noi prendiamo un farmaco il corpo cerca di opporsi a questo farmaco per dire oh ma sai che c'è io non funziono in questo modo cioè tu mi vuoi inibire e io invece aumento la produzione delle pompe così ti frego io ovviamente il farmaco è troppo più efficace il corpo non riesce molto spesso a andare oltre questo blocco imposto dai farmaci però aumenta la produzione delle pompe quindi se noi togliamo di colpo il gastroprotettore ecco che questo aumentato numero di pompe non troverà più farmaco e produrrà addirittura più acido questo diciamo è un tema su cui non tutti sono concordi però è la ragione per cui potrebbe convenire ridurre gradualmente e secondo me diciamo si può applicare in molti casi clinici questo ragionamento che consiste semplicemente nell'allungare di poco poco la terapia con i gastroprotettori e però farla a dose più bassa in modo da evitare anche il rischio teorico di un rebound di un effetto rimbalzo sì ma dottore pantoprazolo omeprazolo esomeprazolo io non ci capisco niente ci sono mille tipi di gastroprotettori ma qual è che io dovrei prendere questa è una domanda super super frequente che mi viene posta molto spesso in ambulatorio e effettivamente ci sono delle differenze tra i gastroprotettori magari i farmacologi in ascolto diranno eh sì ma c'è questo dettaglio allora è vero ci sono molti piccoli dettagli che distinguono i gastroprotettori però però diciamo che all'atto pratico il suggerimento generale è che più o meno si equivalgono tutti eh si potrebbero considerare alcune differenze adesso ne parliamo ma in linea generale il messaggio che pragmatico che ormai molte organizzazioni molti si dà in letteratura scientifica è quello di cominciare con un gastroprotettore e poi eventualmente se non c'è un'efficacia o c'è un'efficacia subottimale provare a ruotare quindi prenderne un altro invece se il gastroprotettore si dimostra efficace nella persona per carità non tocchiamolo a meno che non ci sia una motivazione clinica non mettiamoci a fare i piccoli chimici che passiamo da un gastroprotettore all'altro quando abbiamo trovato quello che su di noi funziona basta quello è quello che dobbiamo prendere c'è però un'altra considerazione molto importante è veramente negletta che moltissime persone ignorano relativamente ai gastroprotettori e cioè quando noi prendiamo un farmaco il nostro corpo si ribella perché dice sì ma io non sono stato creato con il gastroprotettore al mio interno io non la voglio questa sostanza e quindi fa di tutto per cercare di eliminarla e allora madre natura ci ha dotato all'interno del nostro fegato di alcuni sistemi che vanno a incenerire potremmo dire le sostanze esogene quindi estranee al nostro corpo tra cui anche i farmaci ci sono moltissimi sistemi poi se qualcuno è interessato magari possiamo fare un video di approfondimento perché è un tema veramente affascinante perché apro una piccola parentesi ma voi lo sapete che anche quando mangiamo dei cibi delle verdure della frutta ci sono delle sostanze che il nostro corpo non vuole vuole eliminare e quindi fa di tutto per eliminarle è un mondo affascinante ma chiusa parentesi quando quindi noi assumiamo un farmaco questo può arrivare all'interno del nostro fegato che è un po' il grande spazzino che coordina la pulizia di tutte le sostanze ecco all'interno del fegato poi in realtà non solo nel fegato ma prevalentemente lì si trovano delle proteine degli enzimi che si chiamano CIP hanno questo nome si chiamano CIP e in particolare i gastroprotettori vengono puliti vengono inceneriti potremmo dire reciclati attraverso un CIP che si chiama CIP2C19 questo enzima cosa fa? va a alterare chimicamente i gastroprotettori in modo da eliminarli ma non tutti i gastroprotettori vengono eliminati attraverso questo CIP perché il lansoprazolo è un po' la pecora nera della famiglia dei gastroprotettori in quanto viene metabolizzato prevalentemente da un altro CIP che si chiama CIP3A4 vabbè nomi semplici non ci piacciono a noi scienziati e quindi questa differenza può essere utile da considerare quando una persona prende molti farmaci perché se una persona prende molti farmaci che vanno ad agire sul CIP 2C19 allora sarà meglio prendere il lansoprazolo viceversa se una persona prende dei farmaci che possono agire in qualche modo sul CIP3A4 ecco che converrà a prendere gli altri gastroprotettori questa è una considerazione spesso nascosta ma che può essere molto molto utile e si dottore ma io vorrei sapere la dose a cui li devo prendere ora per considerazioni sulla dose creerò una piccola tabella alla fine del video è un super bonus lì ne parleremo in modo più dettagliato però vorrei darvi un piccolo spunto riguardo quello che è il futuro perché stiamo avendo ormai dei dati scientifici molto forti sul fatto che ognuno di noi è diverso e uno potrebbe dire dottore grazie grazie ma in realtà vorrei dire una cosa particolare cioè ognuno di noi è diverso grazie al chip no non è una parolaccia grazie al chip epatico quello di cui abbiamo parlato che metabolizza il gastroprotettore perché si è visto che le persone hanno dei chip diversi quindi sempre il chip 3 a 4 chip 2 c 19 ok ma sono un po' diversi da persona a persona e questo fa sì che alcuni quando prendono il gastroprotettore ci piegano una vita per metabolizzarlo altri sono una via di mezzo altri invece lo inceneriscono subito cioè lo fanno esplodere praticamente ora questo come potete capire crea delle differenze perché ci aspettiamo che le dosi standard potrebbero non essere adeguati per tutti quanti questo però è un tema che riguarda il futuro probabilmente un futuro anche a breve termine perché stiamo cominciando ad avere degli studi molto importanti poi chi vuole magari chiede l'ambito interessato mi può contattare anche su instagram vi giro la bibliografia ma questo è il futuro cioè potremmo avere delle dosi personalizzate a livello genetico questa è una cosa straordinaria ed è un campo in cui signori tra poco probabilmente entreremo passiamo adesso alle interazioni farmacologiche eh sì perché uno dice io prendo un gastroprotettore a me serve per proteggermi dal bruciore gastrico eh però se una persona prende altri farmaci ci possono essere delle interazioni la risposta è potenzialmente sì e possono essere anche delle interazioni assai rilevanti diciamo che ne identifichiamo soprattutto due la prima interazione è quella che riguarda alcuni farmaci di tipo oncologico eh o alcuni farmaci magari per trattare l'HIV ecco che in questi casi il gastroprotettore deve essere considerato attentamente con farmaci oncologici intendo soprattutto quelli assunti per bocca naturalmente ecco in questi casi mi raccomando non prendete gastroprotettori di vostra iniziativa parlatene sempre con il vostro medico molto importante la seconda interazione invece riguarda il fegato perché abbiamo visto che i gastroprotettori vengono macinati metabolizzati a livello del fegato ed ecco che se anche altri farmaci hanno bisogno degli stessi meccanismi per essere distrutti o per essere attivati a volte potremmo avere delle interferenze una molto studiata e anche molto controversa in ambito scientifico è quella che riguarda il clopidogrel che è un farmaco antiaggregante che serve per fluidificare il sangue come si suol dire quindi in questi casi è necessario prestare un po' di attenzione in generale tanti più farmaci assumete tanto più dovete essere attenti e quindi parlarne con il vostro medico prima di assumere un gastroprotettore dottore tutto bellissimo però io voglio sapere cosa rischio a prendere il gas con il gastroprotettore un po' di rischi ce ne sono e quindi entriamo nel capitolo più tetro e plumbeo della terapia legata ai gastroprotettori ora prima di tuffarci a bomba ricordiamoci sempre una cosa importantissima non contano mai i benefici non contano mai i rischi conta sempre il loro rapporto è l'unica cosa che dobbiamo tenere a mente nel momento in cui i benefici sono superiori ai rischi ecco che il farmaco andrà preso ok perché ovviamente avremo una necessità clinica del anche correre dei piccoli rischi per avere un beneficio che sarà molto più importante di quello che potrebbero essere appunto i rischi ma vediamo quali sono questi effetti collaterali allora il primo effetto collaterale è quello che riguarda l'intestino uno potrebbe dire sì ma dottore non capisco cioè il farmaco agisce a livello dello stomaco e adesso ho problemi a livello dell'intestino ma non ha senso tutto ciò e no invece ce l'ha il senso perché l'acido l'acido gastrico ci serve per l'abbiamo visto prima pulire dalle bestiacce che noi mangiamo normalmente tutto quello che noi mangiamo è sporco da un punto di vista microbiologico dobbiamo accettare questa cosa ma siamo stati creati con l'acido proprio per pulire per sterilizzare queste bestiacce nel momento in cui abbiamo poco acido o quasi nulla di acido ecco che se ci sono delle bestiacce annidate tra le fette di mortadella ecco che queste tranquille tranquille passano lo stomaco e arrivano nell'intestino e qui possono cominciare i guai sì perché quello che si è visto è che aumenta prendendo i gastroprotettori il rischio di avere infezioni da una bestiaccia assai fastidiosa che è il clostridium difficile questo è una bestiaccia che può produrre delle tossine e creare delle diarree molto importanti quindi soprattutto chi prende i gastroprotettori da un certo quantitativo di tempo e dovesse avere delle diarree importanti qui potrebbe essere utile ricercare la tossina di questo clostridium difficile per escluderne la presenza poi se lo troviamo non preoccupiamoci nel senso che possiamo fare delle terapie eradicanti oggi abbiamo poi diverse strategie quindi una soluzione si trova ma è importante ricordarsi di questo aspetto come è importante importantissimo direi ricordarsi e questo è un aspetto un po' più complicato che togliendo la barriera gastrica quindi l'acido gastrico anche dei batteri molto subdoli possono entrare nell'intestino e mi sto riferendo ai batteri multidrug resistance sono quei batteri che resistono a molti tipi di antibiotici e a volte si riesce a trovare un antibiotico giusto per eradicarli a volte questo è molto complicato e questo ci ricorda ve lo lancio come accenno come spunto di riflessione che gli antibiotici non vanno presi a caso se i gastroprotettori vanno presi in modo morigerato gli antibiotici vanno presi con estrema cautela perché il rischio è che tra pochi anni arriveremo a fronteggiare dei batteri per cui non abbiamo più armi ecco un'ultima considerazione che riguarda l'intestino e che si pensa e si è visto che i gastroprotettori possono cambiare il microbiota il microbiota è questo ammasso di batteri virus funghi di tutto una cozzaglia micidiale che abbiamo all'interno del nostro intestino ecco questo si è visto che con i gastroprotettori cambia e si pensa che questo cambiamento potrebbe dare delle problematiche anche di tipo autoimmunitario per esempio si è visto anche se per alcuni è ancora controverso dicono sì ma non è detto che dipenda dai gastroprotettori insomma c'è molta discussione ma delle coliti microscopiche che sono dei fenomeni diciamo immunitari per cui l'intestino viene attaccato c'è un danno per così dire da parte del sistema immunitario ma non finisce qui purtroppo perché i gastroprotettori possono dare dei problemi di assorbimento eh sì l'abbiamo visto prima lo stomaco e l'acido ha la funzione importantissima di cominciare la digestione di quello che mangiamo del fatidico paninazzo con la mortazza ecco e questa digestione è particolarmente critica per alcuni nutrienti il più importante tra questi è il magnesio prendere gastroprotettori aumenta il rischio di carenze di magnesio fino al 40% occhio perché questo non è un dato trascurabile e uno dice sì vabbè il magnesio ma a che serve il magnesio il magnesio è importante per nervi muscoli cuore ha tante funzioni diverse e quello che succede quando il magnesio è ridotto è che ci sentiamo stanchi abbiamo dei tremori possiamo sentirci apatici possiamo avere veri e propri problemi di contrazione muscolari mano a mano che il deficit diventa grave fino anche a problemi del ritmo cardiaco quindi potenzialmente il deficit di magnesio è un qualcosa di molto serio ora non voglio terrorizzarvi naturalmente diciamo che i deficit severi sono abbastanza rari i deficit invece moderati di magnesio beh si riscontrano di fatto e sono più frequenti soprattutto in chi prende anche dei diuretici perché anche con i diuretici si possono creare delle turbe di tipo elettrolitico e quindi rendere più pesante potenzialmente questo deficit ecco un'altra considerazione è che il rischio di avere un'ipomagnesemia quindi una carenza di magnesio aumenta con l'aumentare della durata della terapia con gastroprotettori ecco che di nuovo allora dobbiamo essere attenti e fare questa terapia per il minor tempo possibile quindi fin tanto che ci serve una seconda carenza è quella che riguarda il calcio il calcio lo conosciamo tutti è quello che ci rende le ossa belle forti belle salde ecco durante la terapia con gastroprotettori potremmo diminuire l'assorbimento di calcio e quindi potenzialmente avere delle osteopenie osteoporosi delle fratture è un qualcosa che va tenuto sotto controllo però diciamo che in questo caso possiamo anche un po' ridimensionare il rischio perché non tutto il calcio che noi assumiamo ha bisogno dell'acido gastrico fondamentalmente e soprattutto il calcio carbonato che ha bisogno di questo tipo di acido quindi banalmente i latticini possiamo estrarre il calcio anche prendendo i gastroprotettori un piccolo trucco che do a chi sta facendo un'integrazione invece una supplementazione di calcio ecco che cercate di non prendere il calcio carbonato se prendete anche i gastroprotettori magari prendete il calcio citrato che non ha bisogno dell'acido gastrico questo è un piccolo trucco che però potrebbe essere utile per chi prende entrambe queste terapie un altro deficit importante da considerare è il deficit di B12 la B12 è una vitamina molti la conoscono e senza acido gastrico potremmo avere dei problemi ad assumerne ora è chiaro che chi fa tanto un'alimentazione di tipo animale perché la B12 si trova nei prodotti di origine animale teoricamente non dovrebbe avere problemi anche se poi dovrebbe scattare un cazziatone perché mangiare troppi alimenti animali non è una cosa buona ma a parte gli scherzi sicuramente è più a rischio un vegano che ovviamente dovrebbe supplementarla ma un vegetariano che magari non supplementa B12 e anche qui attenzione molta attenzione però diventa veramente a rischio di deficit anche severo di vitamina B12 che ricordiamo può dare dei problemi molto molto marcati il consiglio quindi è in chi fa una terapia soprattutto di lungo raggio con gastroprotettori stare all'occhio sulla vitamina B12 ma per chi assume un integratore di vitamina B12 ecco che possiamo stare ragionevolmente tranquilli perché i dati oggi ci dicono che l'integrazione non risente in misura rilevante della carenza di acido gastrico quarta carenza ebbene sì lo vedete quante carenze può dare avere meno acido all'interno del proprio stomaco è quella che riguarda il ferro il ferro è una sostanza importante per il nostro corpo ovviamente non va presa né in eccesso ma anche la carenza può creare problematiche senza acido cloridrico quindi senza l'acido gastrico riusciamo ad assorbire meno ferro ma questo interessa soprattutto il ferro non eme uno potrebbe dire ma cos'è il ferro eme il ferro non eme beh noi sappiamo che il ferro lo troviamo sia all'interno degli alimenti animali di origine animale sia in quelli di origine vegetale in quelli vegetali troviamo il ferro non eme ecco il ferro non eme è quello più sensibile alla carenza di acido cloridrico a livello gastrico quindi chi ha un'alimentazione vegana o vegetariana dovrebbe prestare più attenzione e magari cercare di introdurre un po' più alimenti contenenti ferro magari facilitare l'assorbimento con l'acido ascorbico oppure valutare in caso di carenze anche una integrazione ci sono poi molti altri effetti collaterali che sono controversi su cui gli scienziati là fuori si stanno scannando stanno facendo le battaglie più allucinanti ma tra questi due meritano una considerazione che sono le polmoniti e i deficit cognitivi ecco non sappiamo ancora se l'associazione sia effettivamente vera non sappiamo soprattutto se vi sia una relazione di causa effetto perché anche qui a volte gli studi dimostrano che sì un qualcosa si associa a un qualcos'altro sì ma questo non vuol dire che un farmaco causi una certa patologia quindi stiamo attenti questo nuovamente ci sottolinea come prendere un farmaco a muzzo come si suol dire non è mai una buona idea sì dottore ma io devo prenderlo questo gastroprotettore perché senza non posso proprio stare vabbè nessun problema se bisogna prendere un gastroprotettore possono essere anche utili dei monitoraggi ora questi monitoraggi non è che devono essere fatti a tutti sempre e costantemente parlatene sempre con il vostro medico questo è un video generale eccetera eccetera ma abbiamo visto i gastroprotettori potrebbero dare delle carenze carenze di magnesio carenze di ferro carenze di calcio carenze di B12 questi elementi soprattutto in chi è più potenzialmente vulnerabile a un deficit perché magari mangia pochi alimenti che contengono queste sostanze ecco che dovrebbero essere monitorati un altro elemento di attenzione potrebbe essere monitorare il magnesio come l'abbiamo visto prima in chi prende dei diuretici per esempio monitorare il calcio potrebbe essere utile anche insieme alla vitamina D e al paratormone proprio per capire se ci sono delle problematiche nell'asse del calcio e quindi dove poter andare ad agire la B12 attenzione soprattutto ai vegetariani che non integrano B12 questo è un campo veramente minato molto pericoloso e il ferro di nuovo vegetariani e vegani qui bisogna stare piuttosto attenti un altro monitoraggio importante è quello in chi sviluppa delle diarree magari croniche durante terapia con gastroprotettori la diarrea può avere milioni di cause quindi parlatene sempre col vostro medico ma ecco che far ricercare le tossine del clostridium difficile può essere molto utile soprattutto soprattutto se avete appena finito una terapia antibiotica perché lì si crea un deserto di microrganismi e quindi è proprio lì che il clostridium difficile può nascere e poi possono essere utili anche delle coproculture delle caratterizzazioni di eventuali batteri intestinali multiresistenti per capire parliamo di casi molto particolari casi specifici però per capire come poi impostare una terapia eradicante io spero che questo video vi sia stato utile per tutti quelli che prendono hanno preso o prenderanno e vabbè facciamo le corna il gastroprotettore ecco che qui avrete molte informazioni pratiche con cui poter diciamo cambiare magari fare dei piccoli aggiustamenti nella vostra vita farmacologica attenzione però mi raccomando parlatene sempre col vostro medico non affidatevi mai a un video su youtube perché voi siete unici e la vostra situazione clinica è unica queste sono informazioni generali che non possono essere applicate per tutti quanti quindi parlatene sempre col vostro medico il senso di questo video di queste guide complete è proprio quello di darvi degli strumenti per dialogare in modo più efficace con il vostro curante e allora io vi saluto se vi piace questo modo di fare divulgazione seguitemi sul mio canale in futuro farò molti altri video se volete anche darmi dei suggerimenti e mettervi in contatto con me invece ci vediamo su instagram io vi saluto ci vediamo nel prossimo video vi auguro anche un buon appetito perché dal resto questo paninazzo con la mortazza di cui parliamo da inizio video è lì fermo sul tavolo che ci sta fissando per i vegani ovviamente un panino integrale con il tofu che peraltro io adoro e quindi niente vegani o non vegani non fa nessuna differenza buon appetito a tutti quanti e ci vediamo nel prossimo video adesso a fine video invece la tabella che vi avevo promesso questa è la tabella che vi avevo promesso con 5 gastroprotettori quelli che si trovano più frequentemente in farmacia ora i gastroprotettori possono essere somministrati anche per via endovenosa qui non ne parleremo quello è più un ambito ospedaliero quelli che invece potete prendere per bocca sono questi notate che ci sono tre dosaggi essenzialmente una è la dose molto alta che si utilizza nei casi severi in cui ci sono delle ulcere o dei rischi molto elevati di sanguinamento quindi sono casi abbastanza isolati c'è la dose standard che è quella che tipicamente viene assunta e poi c'è la dose più bassa uno potrebbe dire sì ma che me ne faccio io della dose più bassa no questa è molto importante perché l'abbiamo visto prima nella nostra chiacchierata quando facciamo una terapia con gastroprotettori dobbiamo cercare di ridurre e di interrompere poi il trattamento se possibile ovviamente ci sono dei casi in cui questo non si può fare ma qualora invece sia il vostro caso non crogiolatevi non state tutta la vita avvolti nella così in un bacco da seta fatto di gastroprotettori cercate di ridurre e interrompere la riduzione può essere utile per evitare l'effetto rebound come abbiamo visto prima le tempistiche variano diciamo che quando si fa un cambio di dose soprattutto scalando in basso la dose si cerca di dare almeno una settimana affinché il corpo si possa abituare al nuovo dosaggio parlatene con il vostro medico ovviamente più la dose è elevata più c'è un rischio ovviamente di effetti collaterali e di potenziali interazioni farmacologiche ecco mi raccomando non cominciate a prendere un farmaco non mettetevi a fare aggiustamenti piccoli chimici e gli esperimenti solo per questa tabella questa è una tabella generale che magari non si applica a voi perché voi siete persone uniche speciali e inimitabili quindi parlatene sempre con il vostro medico mi raccomando e io vi risaluto e ci vediamo nel prossimo video grazie